Oh, no, 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 io prima ti ho detto te la cancello, però su hai fatto un cucchiaio, se vuole venire andando qui, e poi te la cancello, la vuoi cancellare? Sto documentando ogni parola che sto dicendo, basta. Come sai? Come sai? Come debba di fare? Come debba di fare? Come debba di fare? Ah, sta qua, c'è un altro anno. Ma tu devi un palire. Sai che il Maldirelli non fa parlare? Allora si dice che si sta cogliendo. Guarda, non senti più il frango dalla boccatura, veramente. Guarda, non senti più il frango dalla boccatura, veramente. Guarda, un po' ti prendi, se tu te lo fai... Guarda... 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 Guarda...